ciao una bella sorpresa è come un dolce volete la ricetta primo non dire niente all'interessato secondo lavorare molto di fantasia terzo riuscire a mantenere il segreto e quarto scrivermi a viale mazzini 14 roma ci vediamo giovedì 21 dicembre alle 20 e 40 su rai 1 con caramba che sorpresa scrivete a caramba che sorpresa via le mazzini 14 00 195 roma